Un palco reale del Teatro La Fenice con sullo sfondo la nuova produzione del teatro che sarà in scena dal 20 al 28 marzo, Pallo di Alceste, un'eroina mitologica, si può dire, vero Carmela? Sì. Un'eroina mitologica, protagonista dell'opera di Gluck, la nuova produzione del Teatro La Fenice. Poi abbiamo una bionda scintillante qui con noi, Elisabetta Armelin, imprenditrice e stilista di V73, e Susanna Marcova, che è la confidente ismene nella scena di Carmela Remigio, Alceste. Le mimose sullo sfondo, il contorno è tutto al femminile e oggi celebriamo la donna con un battesimo che farà Elisabetta Armelin, la sacerdotessa, in questo caso, del Tempio che è il Teatro La Fenice, battesimo che si riferisce a cosa? Al debutto delle nostre due soprano in nuovi ruoli per la loro scintillante e brillante carriera. Carmela Remigio canterà per la prima volta Alceste, Susanna Marcova, ismene, a voi la parola. Cosa succede? Allora, intanto io voglio ringraziare per questa opportunità per essere qui con voi, che per me è una grande emozione, poi la cornice della Fenice è sicuramente un'emozione che non si può neanche raccontare, bisogna venire per crederci. E poi insomma, vedere comunque che delle ragazze così giovani abbiano questo grande talento, è sicuramente una cosa che ti riempie il cuore, per cui insomma, brave ragazze, bravi voi, e questo ci tengo molto a dirlo e venite a vederle perché sono meravigliose.